Verbicaro punta sulla musica. Il piccolo Borgo Montano nell'Alto Tirreno Cosentino sarà il centro di un workshop internazionale sull'opera lirica, che si svolgerà dal 12 al 31 agosto 2012. Una singolare iniziativa che nasce da una lunga tradizione musicale. Verbicaro ha una tradizione storica di canti, sia di canti della tradizione popolare che sono stati anche studiati. C'è un disco dell'UNESCO che è stato pubblicato anni fa, la Società Italiale di Etnomusicologia che ha fatto un grosso lavoro, la Presidente Tulema Grini che ha pubblicato un volume sui canti di Verbicaro, sia di lavoro, di amore, di sdegno. E poi c'è il grande lavoro fatto dal direttore del Coro della Porziungola, che è uno di Verbicaro, Don Francesco Spingola, che ha fatto un grande lavoro di recupero di canti religiosi di Verbicaro, che poi lui ha riadattato per il Coro della Porziungola. Il laboratorio è rivolto ai cantanti di musica lirica e ha come obiettivo principale la rappresentazione teatrale dell'opera L'Erisil d'amore di Donizetti. Per partecipare al progetto occorre iscriversi entro il prossimo 9 giugno. L'iniziativa consiste nel fornire ai giovani cantanti l'opportunità di approfondire il lavoro di ricerca e di studio sull'interpretazione musicale, sulla tecnica e sull'aspetto scenografico dell'opera. Questo progetto servirà anche ad intensificare i rapporti tra Verbicaro e Bersenfeld. La cosa interessante è che siamo due comuni, uno in Germania, uno in Italia, che attraverso una particolare forma culturale e musicale, quale la lirica, di rimettere insieme in qualche maniera anche le cose che contano di questa grande Europa di cui speriamo i giovani possono continuare a fruire in pace. Io credo che sia un modo per costruire anche questo in futuro.